Domenica delle Palme complicata per il Vallo di Diano che ha visto il suo bilancio salire dopo giorni relativamente tranquilli. Infatti la giornata di ieri ha visto quattro nuovi contagi nel territorio e soprattutto tre decessi. Per i quattro nuovi casi di Covid-19 si tratta di persone di Caggiano con un familiare già positivo al virus, mentre per i decessi si tratta ancora di anziani, due di Polla però uno dei quali è solo un sospetto contagiato ed un'anziana di Sala Consilina. Il totale del territorio valdianese sale a 132 contagiati e 16 decessi. Sala Consilina, Caggiano e Polla, i tre paesi più colpiti nel Cilento si registrano tre nuovi casi ad Agropoli facenti parte del nucleo familiare della donna risultata positiva sabato. Due nuovi casi a Casalvelino e a Vibonati. La positività al virus di Casalvelino, la seconda nel paese cilentano, è stata registrata su un allievo carabiniere di ritorno da Torino. Il ragazzo però non ha avuto contatti ed era già in isolamento, quindi non è legato al primo caso riscontrato nel paese. A Vibonati risulta positiva la coniuge del ginecologo paziente 1 della zona del Golfo di Policastro, il cui caso ha creato scalpore nei paesi di Vibonati e Sapri. Negativi invece altri due familiari a Capaccio Pestum e paesi vicini. Si attendono i risultati di vari tamponi legati al caso del medico 28enne. Il bilancio cilentano dunque sale a 19 casi ad Agropoli con due decessi e tre guarigioni, tre a Vallo della Lucania, due a Sessa Cilento, Vibonati e Casalvelino, uno a Serramezzana, Laurino, San Mauro, Labruca e Capaccio Pestum.